Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Come promesso, benvenuti in un nuovo video configurazione. Quest'anno finiamo l'anno con due build, uscirà questa e poi una settimana prossima, una minima e una massima. Ma il video di oggi è realizzato in collaborazione con Corsair. Con oltre 25 anni di esperienza nella realizzazione di memorie professionali e ad alte prestazioni, i nuovi moduli DDR5 tracciano la strada per frequenze superiori, capacità maggiori e prestazioni ancora più rapide, supportando appieno le nuove piattaforme come i processori Intel Core di 12esima generazione e le schede madri Z690. Presentata inizialmente con la frequenza di 5200 MHz, la tecnologia DDR5 consente una regolazione della tensione integrata ed offre un overclocking più semplice e preciso che mai. Con la possibilità di scegliere tra lo stile iconico e lo straordinario sistema di illuminazione di Luminator Platinum RGB ed il profilo compatto minimale di Vengeance, i kit Corsair da 32 e 64 GB consentiranno al tuo innovativo PC di sfruttare fin da subito le prestazioni della tecnologia DDR5. Maggiore densità per modulo, maggiori frequenze e banda per poter offrire una tecnologia al pari con le risorse richieste dagli ultimi sistemi, minori consumi ed overclock più semplice grazie al circuito di controllo integrato direttamente sul modulo e tecnologie come l'Intel XMP 3.0. Per tutte le informazioni riguardanti i moduli Corsair trovate tutti i link utili in testa alla descrizione, ma ora torniamo al video. È un po' che non facciamo build serie, ne abbiamo fatte una mini TX, due o tre settimane fa e una, no fu la settimana scorsa, non mi ricordo, no quella non era build, boh non mi ricordo, un po' di tempo fa, e una l'abbiamo fatta a settembre che era la prima build che non facevamo da un anno e mezzo. Esatto. Quindi quest'anno nel 2021 ben quattro build, non esageriamo! Incredibile, ma è vero? E questa, essendo una build relativamente di fine anno, è anche l'unica build in cui non vi diciamo è per la scheda video, andate su Just Track It! Qualche giorno fa abbiamo parlato... Due giorni fa abbiamo parlato di una scheda video giapponese che abbiamo comprato in Giappone e mi piace tantissimo che molti di voi hanno capito il senso del video, cioè non è quella scheda video su Amazon Giappo, ma la situazione ormai è chiara in tutti i settori, ormai non si può più dire è un evento, organizziamoci, non compriamo, facciamo cose, disfiamo, è ingiusto, così. La situazione è questa, dobbiamo accettarla, è un insieme di diversi eventi, tra cui i miner, gli scalper e chi se ne approfitta, l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto, ma ci sono anche altre cause, un insieme di tutto questo e ovviamente non possiamo più ignorare la situazione in cui viviamo. Se uno si deve fare un PC e un conto è passato ormai un anno e abbiamo minimo almeno un altro anno davanti di situazioni del genere, ragazzi, se uno ha bisogno di un PC per casa, dovrà più comprarlo. Quindi, ovviamente, siamo qua per darvi la nostra opinione, il nostro consiglio sul PC più scrauso, è veramente scrauso, che possiate comprare in questo momento. È il meno peggio? È bello? No. È conveniente? No. È quello che potete fare spendendo di meno in questo momento e avendo una GPU dedicata. La cosa che fa piacere è proprio che abbiate percepito il messaggio e non, come al solito, vi siete lamentati in continuazione. Ma ormai non succede più. No, infatti, abbiamo passato. L'anno scorso c'era perché ovviamente c'era lo shock in questo momento di prezzi. Un anno e mezzo. Bravissimo. Abbiamo passato l'ultimo anno e mezzo a lamentarci. Ci aspetta ancora un anno buono di crisi, quindi smettiamo di lamentarci per un anno ancora intero. No, beh, io mi lamenterò sempre. Rendiamoci conto della situazione. Lamentarci è il nostro lavoro. È il mio pane quotidiano. Esatto. Non puoi chiedermi di smettere di lamentarmi. Partiamo con ordine, quindi, perché la scheda video l'avete già capita. Partiamo con il processore. Il processore è un portentoso i3 10100F. Non 12.000. Non 11.000. 10.000. Stiamo parlando chiaramente di un prodotto che comunque ancora oggi per la fascia economica ha il suo senso. S'accende. Ha il suo senso perché un i3 ovviamente non costa praticamente, cioè costa neanche 100 euro per farvi capire. Quindi siamo su una fascia che bene o male è rimasta economica. Ovviamente non ve lo fanno pagare 50 euro perché, vabbè, ci sta. Quelli ci sono i Pentium, i Celeron che fanno cagare il cazzo. Però stiamo parlando di un processo di due generazioni fa. I3 nuovi non sono ancora usciti. Quando usciranno probabilmente si ritaglieranno il loro spazio. Sembrano dai rumor su videocart sembrano veramente potenti. Arrivano addirittura a 90 watt. Per un i3, signori. Per cui, cioè, forse la luna. Non stiamo più... Ho perso un po' di... Era la fascia degli i7, 90 watt prima. Diciamo che però se la generazione scorsa, 11.000-10.000 è stata un po' una delusione, non tanto i 10.000 quanto più i 11.000 per la fascia alta, la fascia bassa è rimasta comunque valida. I5 e i3 ancora oggi sono pappabili. Diciamo, l'11.400F, l'11.300, quello che è i 3 e i 5 identificativi della fascia economica sono validi finché non escono i 12.000 economici. Ovviamente, come RAM, abbiamo scelto classiche 16 giga di RAM a 3.000 MHz, le Viper, in questo caso, che costano anche lì meno di 80 euro. Queste sono anche... le potete utilizzare anche per altro, quindi se poi aggiornate e fate altro, comunque le avete, queste vi possono rimanere buone. E se da bravi fioi ci avete ascoltato durante la settimana del Black Friday, avete preso 54 euro le altre. Esatto. Siete anche più felici. Esatto. La scheda madre è un Asus H510. Mirabolante H510. Perché c'è M poi alla fine. Ah, non vuol dire mirabolante? No. MA però, mirabolante anacronistica. Ed è una scheda madre di faccia ovviamente ultra bassa, che anche qui ha un costo estremamente economico che permette di usufruire dalla nostra build. Accendere il computer. Esatto. Siamo riusciti anche a mettere un Kingston NV1, un SSD NVMe addirittura. Oggigiorno io mi vergognerei a consigliare altro, se non un NVMe in generale, anche economico, perché ce ne sono infiniti volendo tra cui scegliere, per cui almeno quello rimaniamo un po' aggiornati. Come case invece il Q300L ci sta. 45 euro. Il Q300L. Quello ci sta, l'abbiamo già proposto in build economiche e ci sta assolutamente. Assolutamente sì. Niente né infamia né lode. Come l'alimentatore di fatto, anche questo molto economico. Esatto. Se anche lì sul case, dato che non ci sono stati grandi innalzamenti di prezzi sul lato economico, volete prendere qualcos'altro, fate Vopis. Cioè nel senso la scelta sul case, sull'alimentatore, sulle RAM, su le componenti diciamo non fondamentali o meno costose, fate quello che volete. Questi sono solo alcuni dei consigli che possiamo darvi e in questo caso il Q300L va benissimo per quel che costa. Come alimentatore l'MWE da 650W di Cooler Master è ovviamente un alimentatore economico, ma che va benissimo per quello che dobbiamo fare. Ovviamente a questa configurazione ci aggiungiamo la scheda video che poi giustamente anche nei commenti avete detto che è una KFA2 in versione nel brand giapponese ovviamente perché ci sta che cambiando nazione anche Opel in Regno Unito ad esempio ha un altro nome non si chiama Opel per dire quindi ci sta. Da noi KFA2 non è Galax, forse mi sto confondendo. È Galax che è il brand europeo di qualcos'altro. Vabbè comunque cambia nome di continuo in generale. E questo porta il prezzo a poco più di 640€ e quindi a essere una build che ai tempi si poteva fare una build di fascia bassa prepotente, proprio interessante e questa è una build abbastanza diciamo il minimo indispensabile per avere un PC domestico dove puoi accedere anche a un gaming un po' limitato. Mi immagino il PC di famiglia con la persona che lo usa, economico, dove il figlio ci può fare anche una partitina, un gioco. Fortnite o qualche gioco così. Questo che mi immagino l'utilizzo generale per tutta la casa. È ovvio che il PC potente ve lo vedete mercoledì, quello Powa però è un PC molto particolare quello che faremo settimana prossima. Però questo è proprio il minimo sindacale, un video che condividete pure se volete perché comunque di fatto per chi ha bisogno di questa cosa è il minimo indispensabile in questo momento di una tristezza. È il minimo d'entrata nel PC per un periodo di crisi. Fate conto che fino a due anni fa un PC del genere probabilmente lo pagavate almeno 150 euro in meno di questo. Solo il prezzo della scheda video in un momento più naturale era quello alla fine. Quindi l'innalzamento di prezzi ha portato a proporvi un PC da 650 euro come entrata nel PC gaming. Vabbè sì, tanto ormai. Al di là di questo non posso che comunque anche consigliarvi di vedere un attimo quella situazione perché Intel comunque deve uscire con la fascia bassa sicuramente nell'inizio o ai primi mesi dell'anno prossimo. Beh sì, adesso lo vediamo. Esatto e comunque Intel abbiamo visto che nei prezzi è stata abbastanza ovviamente con l'i3 non mettiamo le DDR5 per cui fareste nel caso la build DDR4 per cui nel caso possiamo vedere di aspettare un attimo per vedere di fare una build con un diciamo di fascia bassa con un PC che si accende con un i3 che probabilmente sarà veramente magari picchia parecchio perché magari non arriverà al 5600 di Ryzen probabilmente no però non ci starà troppo lontano. Esatto infatti. E però dall'altra parte si accenderà il PC e potrete anche aggiornarlo con una scheda video che nel caso quelle nuove che escono di fascia bassa saranno disponibili cosa che dubitiamo è un prezzo decente cosa che dubitiamo ancora di più potrete nel caso fare in questo momento le tesi di Davide. Prima di Natale, prima di Natale questo è un PC che può andare bene per la famiglia. È buono? No. È consigliabile? No. Però è quello che passa al convento. È il minimo. È quello che passa al convento. Quindi nella grande e trepitante attesa che arrivino nuove schede che il mercato vedrà in parte molto limitata. Sperando che il 2022 ci possa dare qualcosa di serio come ho detto. Beh il 2022 ci darà soddisfazioni su quello sono sicuro almeno a livello ludico. A livello ludico e a livello di presentazione quindi a livello nostro di appassionati del settore. Ma a livello materiale non lo so. Rimanendo quindi in attesa di grandi aggiornamenti per l'inizio dell'anno prossimo fateci sapere cosa ne pensate ragazzi. E alla prossima ragazzi. Ciao. 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 Ciao.